No, non ci posso credere, lui è stato il primo ragazzi ad aver creato il maialino, ciao maialino, oh mio dio, il meme del maialino ragazzi l'ha creato lui, no vabbè, pazzesco, pazzesco, cioè, da più di un anno che c'è sto meme? Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Server dove voi mi fate i livelli e questa serie ha praticamente compiuto più di un anno, sì lo so, è pazzesco, e ogni volta vi piacciono tantissimo questi video, quindi probabilmente vi piace il fatto che io appunto gioco i vostri livelli E oggi quindi vorrei tornare indietro nel tempo e farvi vedere i primi livelli mai costruiti in questo server, quindi prima ancora che ci fossero tutti i meme dietro al mio canale, Billy, ancora Billy forse non era neanche nato, tutti i meme sull'elmetto in ferro eccetera eccetera, come tutto è iniziato, come vedete qua ci sono tantissimi livelli fatti da voi, la maggior parte li ho giocati, molti no perché sono tanti, sono veramente, ragazzi sono, wow, avete fatto tantissimi tantissimi livelli E vi ringrazio ovviamente, sono contento di poterli giocare, ma il tutto è iniziato da qua Matteo4316 mi ha fatto un livello chiamato Kendall, che io ho giocato, mi ricordo di averlo giocato, adesso andiamo a vedere però se mi ricordo ancora il livello e se mi ricordo come si finisce Allora, che ci abbiamo? Kendall4life, PS mi puoi salutare, beh ti ho già salutato nello scorso video, comunque se sei ancora un fan ovviamente ti saluto, questo è un livello per un imperatore come te, pvp, buona fortuna Ah già qua avevamo iniziato con i vari pvp di questi mostri stupidi, se non sbaglio io, l'anno scorso quando ho giocato questo episodio, a loro li avevo completamente ignorati oppure ne ho fatto passare soltanto uno Ah ma loro non passano, oh ma siete stupidi, siete stupidi e troppo grandi e lunghi e quindi non passate attraverso Eh però c'è un problema, io non ho ora modo per rigenerare perché non mi ha dato le mele d'oro, solitamente si danno le mele d'oro Ok, loro sono abbastanza sicuro di averli ignorati anche perché c'è scritto, quindi è stato lui forse a darmi l'idea di ignorare questi tipi di mostri Quindi beh c'è scritto che posso semplicemente ignorarli e io mi ignoro allora E ecco il parkour, perfetto, cioè già ai tempi mi mettevate il parkour? Non ci posso credere, fine parkour Ma ha iniziato veramente tutto quanto lui? TNT run? Ok, cioè quindi ragazzi, Matteo aveva fatto KL Matteo ha iniziato tutta questa moda di livelli con parkour, pvp, TNT run, oh mio dio è stato il primo Ok allora guardiamo immediatamente il secondo livello fatto e poi andiamo a giocare quelli nuovi Perché come vi dicevo oggi sono curioso, voglio tornare indietro nel tempo Allora qua abbiamo il livello di Matteo e questo il livello per tutti è Kendall, Power Shark e YouTube Vediamo un pochettino che cosa ha fatto, credo sia un semplice parkour, sì perché vedo la fine All'inizio ragazzi come vedete non inventavano le storie, anzi non inventavate voi le storie Perché ancora era una cosa nuova ecco, non so chi sia stato il primo ad aver inventato una storia Per poi farmi il livello ma questi erano dei semplici mini giochi divertenti Per carità qua c'è abbiamo l'elmetto, uh mi ha dato ora un bel po' di roba Aspettate prendiamoci tutto quanto e indossiamolo E qua che cosa c'è invece? Ah le mele d'oro, oh almeno lui mi ha dato le mele d'oro Ok è stato anche uno dei primi a chiamare l'elmetto dell'imperatore, elmetto dell'imperatore Allora cari amici zombie, no, non siamo amici, scherzavo Non siamo e non saremo mai degli amici Quindi vedete di andarvene perché mi state ostacolando Ostacolate il mio passaggio verso la fine di questa mappa E io devo vincere perché lo sanno tutti Cosa fa Kendall? Vince No No non ci posso credere Lui è stato il primo ragazzi ad aver creato il maialino Ciao maialino, oh mio dio Il meme del maialino ragazzi l'ha creato lui No vabbè pazzesco Pazzesco, cioè da più di un anno che c'è sto meme E adesso torniamo ai giorni nostri e giochiamo i livelli che mi avete fatto in questi giorni 10 ottobre, Kendall and minigame Fatto da Alex, bellissimo nome Alex Vediamo un pochettino che cosa mi aspetta Questo non l'ho mai fatto Oggi dovrei fare alcuni minigiochi fatta apposta per te Kendall sono Alex, buon divertimento Ciao Alex, che ci abbiamo qua? Regole, non insultare mia madre Cosa? 2 divertiti, 3 sclera, 4 file parkour Ok, non ti preoccupare, non insulterò nessuno Questo è facile, questo è difficile Vediamo, vediamo se indovinate da quale andrò ovviamente Posso mai andare nel parkour dei nabbi, nel parkour facile? No, andremo da quello difficile ovviamente Che non mi sembra neanche tanto difficile Non tenere spazio premuto, lo so Ti ringrazio comunque Ok, facciamo così e poi Ok, non era molto difficile dire la verità Anzi, era abbastanza semplice Però dovete rispettare il fatto che io ho scelto la parte difficile Piuttosto che quella facile Quindi lasciate un bel mi piace a questo video Che altro ci abbiamo qua? Allora, presumo sia un dropper Oh, è un bel dropper Sì, 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 un bel dropper arcobaleno E là invece cosa c'è? Ma se... Aspetta Hai sbagliato Mi posso buttare qua io Non c'è bisogno che faccia il dropper Potevo tranquillamente buttarmi là Non andare in F5 Va bene, sto scherzando Non ci vado, ok? Quindi andiamo di qua Poi andiamo tutto dritto Tutto, tutto, tutto Bravo, grazie Find the lever Ecco, questo sarà un pochettino più difficile Perché solitamente Ah, vabbè Stavo dicendo Solitamente si buggano E non riesco mai a trovarli E questo invece che cos'è? Ciao e buon proseguimento Grazie di aver giocato il livello Ma che cos'è questa roba? Ma... Ehi! Aspetta un attimo Ma questo per caso è un elmetto in diamante? Ma come osi? Che cos'è questo schifo, eh? Togli subito questo elmetto in diamante La prossima volta fallo di ferro Chiaro? Comunque la mappa era molto carina Quindi gli lasciamo un bel mi piace Kendall ti amo Questo mi ama Daxfra mi ama Lo sta dicendo lui ragazzi Non l'ho detto io, ok? Vediamo che livello ha fatto Eh... Eh... Ma... Sono tipo dei messaggi nascosti Dei messaggi segreti Che cosa sono questi blocchi? Perché ci sono i blocchi così a caso? Ehm... Allora Daxfra io apprezzo il fatto che tu comunque mi ami Ma che razza di mappa hai appena costruito? E perché la sto giocando soprattutto? Va bene se non altro la arriveremo immediatamente alla vittoria E gli lasciamo un bel mi piace Bam! È stato facile È stata abbastanza facile Gli lasciamo un mi piace Aiutaci Kendall Eh... Aiutaci? Oh mio dio Ok allora Leggiamo un pochettino Caro Kendall Vuoi bene i tuoi iscritti? Eh sì Sì Allora vediamo che altro c'è Loro sono caduti in depressione Perché tu hai fatto una cosa molto brutta Giocando i loro livelli Barare Nooo Non potete cadere in depressione Solo perché baro i vostri livelli Uccidevi gli zombie dai recinti Senza andarci dentro Saltavi i parkour Dicendo di averlo finito Eh questo non l'ho mai fatto Credo Ho mai saltato... Non lo so Non penso di aver mai saltato i parkour Se vuoi salvarli Devi affrontare le tue paure peggiori di Minecraft Beh Sai già quali Sono La cobblestone Allora Buona fortunas Imperatores Sono diventato spagnolo Va bene quindi Ok La cobblestone non mi fa paura Mi fa schifo Comunque è una cosa che odio La strada di cobblestone L'ho superata Bene Provo uno Parkour di cobblestone Che schifo Oh mio dio Ok va bene Ci può stare Lo posso fare Sì 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 Non è un grosso problema Si può fare Perché io sono migliorato nel parkour E la cobblestone Ok l'abbiamo superata Molto bene Poi di qua Poi qua E poi Sono caduto Sì E poi così E poi qua Oh perfetto Un'altra strada di cobblestone Prova due Cava di ragni Ok se non altro non sono quelli piccoli e velenosi Quelli mi fanno altamente schifo Un pochettino come silverfish Quindi che cose dobbiamo fare Se la salti Non sei degno di essere chiamato imperatore Ma Nabbo Allora Allora Non è Ah No 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 Ok aspetta aspetta Non la salto Giuro che non la salto Però datemi un attimo il tempo di prepararmi psicologicamente Per ammazzare questi schifosi Via Via E via Ho detto via Tutte e due Ok uno l'abbiamo ucciso Oh sì Oh è caduto Ok non l'ho saltata ragazzi Ho semplicemente utilizzato L'ingegno Quel ragno era stupido Era un ragno senza cervello E adesso No 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 Non mi piace quello che vedo Gabbia di silverfish Ok Allora prendiamoci tutto l'equipaggiamento Intanto prima di tutto E tra l'altro lui come vedete Ha ricreato perfettamente il portale del land Che si trova appunto nei vari mondi Io ho paura di andare nel land Nella mia candy craft Perché sono sicuro di dover combattere Contro i silverfish Quindi dove stanno? Stanno qua dentro Certo Io potrei adesso tranquillamente Saltare questa gabbia E continuare Però Non ho intenzione di barare Quindi Ok via Va mori 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 Stupido Topo schifoso Topo schifoso Topo schifoso Oh mio dio Oh mio dio Ma scusate Continuano ad uscire Escono dalle pareti Ma quanti sono? Oh no 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 Ma volete vedere che mi ammazzano mo? No 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 Ragazzi stanno sparendo Perché? Non capisco Stanno sparendo i blocchi Stanno sparendo i blocchi Quindi a ogni silverfish che ammazzo Spariscono dei blocchi? Credo Non ne sono sicuro Però io mi mangio una mela d'oro Oh sono caduti quelli Che bello Perfetto vattene pure tu Schifoso Ok Ok li ho uccisi tutti Non ho barato Livello 4 L'elitra Va bene Ok Ok si può fare Non sono sicuro di riuscire a passare Attraverso i cerchi Quindi non prometto questo Ok Però sono sicuro di poter utilizzare l'elitra E arrivare al finale Tra l'altro mi avete detto tutti quanti Negli scorsi video Di utilizzare Di non andare in F5 Quando uso l'elitra Perché è peggio Quindi ok Facciamo così Eh Non è andata proprio Molto molto bene Quindi sapete cosa Adesso ci proviamo di nuovo Kendall devi salvare i tuoi iscritti Quindi impegnati E finisci questo cavolo di elitra Vai Eh Bene A me credo manchi quella parte del cervello Che mi permette di utilizzare l'elitra Avete presente ragazzi Che si dice che utilizziamo soltanto il 20% Io ne uso il 19% Perché la parte dell'elitra Mi manca Non c'è proprio Non fa parte del mio cervello E sono morto di nuovo Ottimo Come dite Ho la spada completamente intatta Quindi non ho combattuto Contro quei mostri Silverfish e ragni No Li ho uccisi col pensiero Sì Li ho combattuti Promesso Ok Usiamo l'elitra una volta per tutte E stavolta cerchiamo di finire Non mi interessa No no guarda A me non interessa Che non ho passato questo cerchio schifoso Io ora faccio tutto il giro E ciao ciao Che c'è scritto là Se non ce l'hai fatta Sei una buona Ok Va bene Ci riprovo Vai Vai Sì 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 Ce l'ho fatta E sono però caduto Vabbè però conta lo stesso la vittoria No cioè Sono caduto però L'ho finita la mappa E adesso stiamo volando qua Nella hub del server Non ci posso credere Ragazzi Spero vi sia piaciuto questo video Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Che saluto tutti i fan Che sono sempre online In questo server A salutarvi Dal vostro Kendall Imperatore È tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao 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 Ciao